un caro saluto a chiunque vado a rispondere a una domanda che mi preme da un po e che i nostri massoni sanno che la terra è piatta noi diciamo che la terra è piatta ma quanti massoni sanno che la terra è piatta o credono che la terra è piatta voglio farvi vedere solo cosa c'è scritto in morali e dogma scritto da albert pike questo libro mi è stato consegnato dopo che sono diventato massone di 32esimo grado quindi questo fa parte di quello che c'è scritto qui e questa è una mia piccola opinione la mia interpretazione di alcuni simbolismi che probabilmente sarà in completo disaccordo con molti massoni ma ci sono parecchi massoni che hanno zero idea di cosa significano i simbolismi nei primi tre gradi della loggia blu vi è stato detto che stiamo andando a definire il massimo della massoneria le tre grandi luci nella massoneria sono la bibbia sacra con la squadra e il compasso pertanto la sacra bibbia squadra e compasso rappresentano le tre grandi luci della massoneria non c'è niente di più iconico della massoneria se non la squadra il compasso e la g questo si vede negli anelli negli stemmi dei veicoli negli emblemi dove automaticamente si sa che si tratta di massoneria ok è il simbolo più conosciuto per i massoni ok pertanto all'interno della massoneria tutto quanto ha molteplici e molteplici significati ci sono livelli e strati per i simbolismi e di ciò che rappresentano e con più si sfogliano via questi strati più si può entrare sempre più a fondo e questa è la continua istruzione della massoneria che è quello che serve per continuare a cercare la luce della conoscenza andare a fondo è quello che si suppone debba fare il massone comunque molti massoni non fanno questo arrivano fino al terzo grado dove possono diventare maestri massoni e poi la maggior parte di loro finisce la loro carriera finisce il loro avanzamento nella massoneria ma vediamo cosa c'è scritto in morali e dogma nel primo capitolo relativo alla squadra la squadra è un angolo retto formato da due linee diritte si adatta solo su una superficie piana ed appartiene solo alla geometria per le misure della terra e la trigonometria che ha a che fare solo con i piani e con la terra che gli antichi supponevano fosse piana il compasso descrive cerchi e ha a che fare con la trigonometria sferica la scienza delle sfere e dei cieli pertanto è l'emblema che concerne la terra e la massa e la seconda ha a che fare con i cieli e le anime ci sono molteplici significati di squadre e compassi e sapete all'inizio sì la squadra è per le misurazioni in piano ok gli antichi avevano capito che la terra era un piano fermo immobile poggiato su colonne ed è stato solo credo dalla metà o dalla fine del diciottesimo secolo che arrivano le colonne di jacking e boas con i globi e le sfere celesti situate sulla sommità che in realtà si trovano nelle loro logge quando si entra si vedono due colonne due pilastri e sopra di essi c'è un globo di zaffero chiamato la rappresentazione del cielo e delle stelle questo simbolo è stato introdotto nella massoneria nel tardo diciottesimo secolo e nella mia opinione è stato influenzato dalla royal society per la loro ricerca nell'astronomia e per il loro credo e se torniamo indietro ad isaac newton con questa idea che noi siamo su un globo ecco che con questo ci hanno influenzato ci hanno saturato attraverso queste immagini inserendole nelle logge fino alla data odierna ma se torniamo indietro addirittura immorali e dogma vedete esattamente cosa c'è scritto qui gli antichi supponevano fosse piana quindi questo libro dà il via al fatto che sono sicuri di come usare questi strumenti e di come vengono usati e rappresentati sia per la terra che per il cielo ma andiamo avanti e parliamo del collegamento della terra del cielo degli angeli dell'uomo o donna della cospirazione della genesi 6 e penso che sia una tematica incredibile da affrontare che è rappresentato con la squadra e il compasso e credo che questa sia una discussione importante quindi questo è come abbiamo iniziato ma torniamo indietro al 32esimo grado principe sublime del segreto reale e non vedo l'ora di fare un video su cosa è il segreto reale dove vi racconterò cosa è il segreto reale il 32esimo grado in un altro video pertanto state collegati simbologia dei gradi blu quindi alla fine di morali e dogma iniziano a riassumere sapete un sommario del libro dove facendo all'inizio su cosa sono le simbologie dei gradi blu e dice chiaramente la squadra è uno strumento che si adatta solo su una superficie piana e pertanto appropriato solo alla geometria e alle misure della terra come sembra essere che gli antichi supponevano fosse piana vediamolo nuovamente questi strumenti erano usati per le misure di una terra piatta non una terra a globo non una terra sferica ma una terra piana è esattamente dall'influenza della scienza della royal society e della loro perversione che noi abbiamo questi idoli questa è la mia opinione ma questi sono i fatti scritti sul libro qualcuno potrà discutere che sapete è solo simbologia e bla 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 ma perché non si prendono le cose letteralmente penso che questo sia uno dei più grandi errori che le persone fanno anche con la bibbia quando non vogliono prendere le cose letteralmente io penso che le evidenze le prove che la verità è proprio qui davanti ai nostri occhi ed è sempre stata qui ma le persone hanno permesso a loro stesse di subire il lavaggio del cervello dagli scienziati dallo scientismo attraverso queste immagini che non sono la nostra realtà né quello che percepiamo e nemmeno quello che possiamo misurare in realtà perché non riusciamo a misurare la curvatura perché non esiste perché ci hanno dato la squadra per misurare in realtà il piano della terra aspetto i commenti nella sezione e so che la gente ha le proprie opinioni forti a riguardo a questo ma penso che ciò è solo una altra piccola pepita di informazione che si trova in morali e dogma quindi per chi è d'accordo o meno aspetto le vostre opinioni oltre a questo e vorrei conoscere il grande quesito come fanno i massoni a sapere questo non lo so io ne sono consapevole e so che molti massoni lo sanno ma penso si voglia tenere nascosto in piena vista pertanto per i massoni che vogliono andare a fondo nella tematica fate le vostre ricerche e addentratevi nei simbolismi e nei significati per poi una volta capiti tornare indietro come in un cerchio e nuovamente ripartire dall'inizio dove la terra è un piano fatemi sapere che pensate saluti